Ciao a tutti ragazzi, bentornati! Questo è un nuovo video, dopo tanti, 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 tanti giorni, tante ore, tanti minuti sono tornato nel vascello di Capitan Canaglia a vedere che cosa mi sono comprato, eh! Eh, perché questa è una cosa fantastica, vediamo se indovinate vi faccio vedere un pezzettino chi è? vi faccio vedere un altro pezzettino di qua, guardate bene oh, oh, oh lo conoscete? c'è una certa somiglianza? no, per niente signori miei, ragazzi, ho comprato la bacchetta la bacchetta originale, pensate, è originale di Harry Potter andiamo a vedere guardate, questa è originale, eh! adesso vi faccio vedere anche come funziona guardate quanto è bella questa è fatta da un legno di sambuco e all'interno ha una piuma ha una piuma di fenice perché deve... perché la rende magica allora, vogliamo provare? no, io ho un po' paura però, eh! vediamo se funziona allora, le parole magiche quale sono? io ho visto tutti i film di Harry Potter e credo che sia questa Vingardium Leviosa guardate dove mi ha mandato la bacchetta no, 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 credo che forse è meglio rimetterla nella sua sede la chiudiamo e la mettiamo con calma a posto questa è una delle cose che ho comprato ultimamente e vi volevo far vedere un'altra cosa molto, molto curiosa state lì, eh! state lì fermi contate fino a tre uno due e tre voi vi domanderete ma che cos'è? non è un cappello non è un sigaro ma è una campana tibetana è una campana tibetana queste vengono usate in Tibet i monaci tibetani per prendere le offerte qui ci si metteva il denaro dentro invece adesso si usano si utilizzano per curare questa è una campana magica andiamo a sentire il suono? siete pronti? questa è una nota poi ci sono tanti altri tipi di campana sono delle più piccoline e più grandi enormi addirittura si può suonare sia al rintocco oppure facendo semplicemente guardate la magia sentite? sentite? non c'è trucco, eh! questo è il suono della campana tibetana facendo soltanto questo movimento qua ok amici di Capitan Canaglia il video finisce qua se vi è piaciuto questo video mettete un pollice in su se volete far parte della ciurma di Capitan Canaglia non dovete fare altro che iscrivervi al canale qui sotto c'è scritto iscriviti e iscrivete se volete che vi arrivino le notifiche anche ossia ogni volta che io faccio un video che arriva la campanellina c'è una campanellina qui sotto la dovete illuminare proprio come il rintocco della campana di pedana fate lì fate un colpettino e si illuminerà con questo io vi saluto e allora un saluto da pirata a tutti e ci vediamo al prossimo video ciao